Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'incidenza scende in tutta la regione, chiudiamo il fine settimana con tre ricoveri in più, ma la media dei ricoveri è scesa di fatto a poco più di una decina al giorno contro le molte decine di qualche settimana fa. Quindi direi che dal punto di vista dei dati, come vi leggerò, siamo comunque in una fase discendente abbastanza importante. 2.081 sono i tamponi processati, parlo dei molecolari, 1.312 sono i test antigenici rapidi, quindi meno di quanti se ne facciano di solito, ma sono solo 66 positivi. Direi che siamo nella media, 183 casi positivi totali in meno nel nostro territorio nel saldo tra i guariti e i nuovi contagiati. Imperia ha 7 nuovi casi, Savona ne ha 12, Genova nel suo complesso di città metropolitana 40, di cui 39 in azienda sanitaria numero 3 e uno solo nel Tiguglio, 7 in provincia di Spezia. Come vi dicevo, sale di 3, ma direi un dato sostanzialmente irrilevante, il numero degli ospedalizzati che resta molto basso, 439 totali con 52 terapie intensive. Quindi sostanzialmente siamo dopo un weekend dove normalmente carichiamo un po' le nostre corsie, invece siamo sostanzialmente alla stabilità grazie anche a un flusso veramente inferiore di pazienti che si sono recati ai nostri pronto soccorso. Sono 153 in meno i cittadini in isolamento domiciliare, quel segno che conferma l'incidenza in calo del virus e quindi i minori contatti tra persone infettate. Sono purtroppo ancora due i deceduti, ma anche in questo caso il numero è direi molto sotto la media di cui eravamo purtroppo abituati nel passato. Un uomo ad Albenga l'8 di maggio e il 10 di maggio nell'ospedale di Imperia. Questi sono sostanzialmente i numeri Covid che confermano un calo, poi vi dirò alcuni altri numeri, sempre relativi ai dati Covid, perché l'incidenza sui 10.000 per giorno è scesa nella settimana scorsa a 1,12. l'incidenza sui 100.000 per settimana, cioè i famosi 250-100.000 per settimana che abbiamo imparato tutti a conoscere come elemento discriminante di rischio. Siamo oggi a una media Liguria 74, Genova addirittura 63, Imperia 83, Spezia 88, Savona 65. 75, 74, se calcolate che 50 è lo standard di Regione Bianca, ci stiamo avvicinando, ovviamente senza sperarci nei prossimi giorni, però ci stiamo avvicinando francamente a questi numeri che direi che sono numeri ben auguranti per la stagione estiva. Vaccini, anche qui dato parziale, perché come sapete raccogliamo le dosi somministrate al primo pomeriggio alle ore 15, quindi è evidente che parliamo di numeri maggiori, ma alle 15 di oggi erano 6.557 modello Freeze, quindi Pfizer o Moderna e 1.330 modello Cold, AstraZeneca e Johnson. Siamo al 93% del somministrato sul consegnato, ovvero arriviamo a 715.401 vaccini somministrati su 772.800 consegnati. Abbiamo anche fatto un rapido conto su il tema, come sapete, AstraZeneca, di cui l'Europa ha sospeso gli acquisti, non incide al momento per la programmazione, così come è trasmessa dal Commissario straordinario generale Figliolo, nei piani di programmazione regionale, quindi sostanzialmente non ci sono cambi da questo punto di vista. Mentre nel confronto percentuale tra persone residenti e persone vaccinate, la Liguria è oggi al 30.35% di cittadini che hanno ricevuto la prima dose, contro il 27.9% della media italiana, 2,45% in più, e il 16.57% di seconde dosi contro il 12.30%, quindi 4,27% in più. Siamo un po' cresciuti sulle seconde dosi perché è stato un fine settimana dedicato in particolare alle seconde dosi, infatti sono state fatte quasi tutte le seconde dosi AstraZeneca dei 1.300 che vi ho detto, circa 990 erano seconde dosi. Allora, come forse abbiamo già detto settimana scorsa, oggi alle ore 23 aprono le prenotazioni per i cittadini che hanno un'età compresa tra i 55 e 59 anni. Alle 23 si apre il sistema prenota vaccini. Da domani mattina, per chi non volesse accedere in via informatica, ovviamente i CUP, i numeri verdi e gli sportelli delle aziende. Questo per quanto riguarda i 55 e 59 anni. Il 17 di maggio, ovvero la prossima settimana, alle ore 23 sempre, con la stessa modalità, la sera online e la mattina attraverso tutti i canali, si aprirà per 50-55. Siamo infatti arrivati all'81.3 media regionale di ultraottantenni vaccinati e quindi proseguiamo, anche perché sulla categoria dei settantenni siamo comunque sopra il 60%. Direi che tutte le categorie prioritarie stanno marciando bene. Insegnanti. Giovedì, dalla mattina, i numeri CUP, i numeri verdi delle ASLA, cominceranno a prendere le prenotazioni. basterà chiamare dicendo che sia insegnanti con una sorta di autocertificazione, si verrà iscritti nel registro delle vaccinazioni avendo l'appuntamento. Mentre, per coloro che di tutte le età avevano già un appuntamento programmato con i medici di famiglia, poi sospeso per le note vicende legate all'uso di vaccino AstraZeneca, proprio in queste ore arriverà un SMS che già in automatico prenoterà per voi uno spazio all'interno dello spazio dedicato agli insegnanti negli hub vaccinali. Se quello spazio, per ragioni di vita normale, non fosse di vostro gradimento, ovviamente vi sprenotate andando sul sito e vi riprenotate quando ritenete, sapendo che l'SMS arriverà già con una prenotazione prioritaria e quindi dovrebbe essere il migliore slot possibile per la vostra categoria. Così come, a partire dalle prossime settimane, stiamo ragionando con il Centro Regionale del Sangue, partiremo anche con le vaccinazioni dei donatori. Entro la settimana daremo le modalità, poi saranno gestite comunque dal Centro Regionale Sangue, quindi in qualche modo sarà un po' come le categorie prioritarie dell'inizio, quindi gestite attraverso gli spazi dedicati alla donazione del sangue. Direi che queste sono tutte le notizie di giornata. Ci auguriamo, abbiamo una serie di incontri a partire da domani a mercoledì sugli indicatori più opportuni con cui affrontare il monitoraggio del Covid in queste stagioni di riapertura. Sapete che c'è un dibattito aperto sul coprifuoco, come su altre misure, come il pranzo e la cena all'interno dei locali. Quindi io penso che domani abbiamo una riunione con il Governo e con il Commissario Figliolo. Il giorno successivo ne abbiamo un'altra. Stiamo all'ordine del giorno del ragionamento. C'è appunto i dati più coerenti da utilizzare per tenere sotto controllo la pandemia, il famoso RT ospedalizzazione, la valutazione dell'incidenza, i parametri di rischio, insomma tutto il cruscotto di comando che poi evidentemente useremo in questa lunga estate. Speriamo per tenere sotto controllo il Covid ovviamente vi aggiorneremo. Bene, per il momento direi che è tutto. E proseguiamo. Prende la parola il Sindaco di Genova, Marco Bucci. Buonasera. Allora, alcuni dati relativi a fine settimana. Venerdì abbiamo avuto una frequenza passeggeri di transiti sui nostri mezzi della città di 278.600, quindi il 40%, frequenza sempre tra le 7 e le 9, delle 17 e le 19, frequenza assolutamente standard, con i bus colastici che hanno fatto 600 corse e non ci sono state corse sopra il 50%, quindi la giornata di venerdì è andata bene. La giornata di sabato ha visto una frequenza del 38% con 228.652 transiti, con una frequenza massima di 18.000 transiti, quindi non 24.000 come il venerdì. ovviamente sappiamo che al sabato sono inferiori e sono tra le 9 e le 11 e tra le 17 e le 19. Mentre la giornata di domenica invece ha avuto 149.000 transiti, cioè il 38% di una giornata domenica domenica con le punte massime tra le 17 e le 20 con una frequenza massima di 14.000 passeggeri. Tutto assolutamente in linea con le nostre previsioni e con quello che è successo negli scorsi weekend. Anche qui ricordiamo che per quanto riguarda le persone che vanno a farsi vaccinare, ricordiamo che sull'autobus si può andare gratuitamente per una persona e per il proprio accompagnatore e ovviamente anche il bus elettrico che c'è al lab del Jean Novel della Fiera è ovviamente gratuito. Una buona notizia viene dalle sanzioni, ovvero sia venerdì sono state effettuate 54 sanzioni, di cui 3 alle attività economiche. Non è questa la buona notizia. La buona notizia è che il sabato 34 e domenica 28. Quindi sembra, dico sembra, che le sanzioni siano in declino, ovvero sia che si è veramente capito come bisogna comportarsi. Ora aspettiamo a dirlo, a proclamare vittoria, vediamo come andrà questa settimana, però questo è un buon segnale. È un buon segnale che dice che, come avete sentito dal Presidente, i contagi stanno calando e quindi siamo sulla strada giusta, assolutamente non dobbiamo, dobbiamo assolutamente osservare tutte le norme perché non possiamo correre assolutamente il rischio di ritornare in questa situazione. Quindi continuiamo così, mascherine, divieto gli assembramenti, osservare le norme e vedrete che non usciremo presto. Grazie a tutti e buona serata. Ci sono domande da parte della stampa? Fabio Canessa, Genova24. Buonasera Presidente. Sulla questione AstraZeneca chiedo conferma, quindi al momento non state valutando la possibilità di riservare le dosi AstraZeneca solo ai richiami? Cioè si va avanti a vaccinare anche con l'AstraZeneca? Andiamo avanti a vaccinare perché ne abbiamo una sufficiente programmazione, ammesso che ovviamente nei prossimi giorni non cambino le quantità in arrivo del generale Figliolo, ma noi di AstraZeneca ne abbiamo fatti circa un po' meno di 150 mila, quindi facendo la programmazione su quelli che usiamo adesso, che comunque sono un vaccino ormai che usiamo meno di Pfizer di Moderna e rispetto alle seconde dosi che dovremo fare nelle prossime scadenze trimestrali, per il momento la programmazione non cambia. Invece alla luce del fatto che al momento, proprio a causa delle scarse prenotazioni su AstraZeneca, gli hub stanno funzionando praticamente a metà regime, di quanto ci ha detto poco fa il direttore sociosanitario di ASL3, non riterreste o invece opportuno riequilibrare la distribuzione dei vaccini in modo che le persone nella fascia 60-79 non si vaccinino con AstraZeneca ma con gli altri vaccini? Su questo deve essere chiaro, noi dobbiamo utilizzare tutti i vaccini che arrivano, non abbiamo... Avremo comunque una scorta di vaccini che si accumulerebbe, perché la programmazione attuale è in equilibrio. Detto che non mi risulta che ci siano... Certo, c'è un po' più di lentezza sulle linee AstraZeneca ma settimana scorsa sono stati fatti 79 mila vaccini, quindi esattamente la programmazione sulle linee che abbiamo. Quindi il tema, lo ha detto il Presidente del Consiglio parlando in Portogallo due giorni fa, non posso far altro che ribadirlo. Il vaccino che si fa è quello che i medici scelgono per te, non c'è una... Quindi vedremo poi cosa decideremo, la riciderà AIFA nelle prossime ore per il futuro di AstraZeneca e di Johnson alla luce del fatto che molte regioni, noi tra queste, stiamo aprendo sotto i 60, quindi occorrerà decidere poi che cosa si farà con quella tipologia di vaccino. Però per il momento le consegne previste di qua ad agosto, quindi tenuto conto dei richiami e le prime dosi previste nella programmazione regionale sono in equilibrio. Ultima domanda, almeno per me. Visto che stando sempre a quello che ci dice ASL3, la parte pubblica dell'Hub in questo momento sta funzionando appunto a metà regime, perché a vaccina AstraZeneca e quella privata invece funziona a pieno regime, state valutando eventualmente anche in questo caso di riequilibrare le dosi in modo da dare delle dosi Pfizer e vaccinare ultra fragili anche con il personale dell'ASL3, in questo momento sta lavorando meno. Da giovedì si apre agli insegnanti, ma ripeto, è un tema che per la programmazione regionale non esiste. 79 mila vaccini dovevamo fare, 79 mila vaccini abbiamo fatto, quindi nessuno ha fatto meno di quanto doveva, nessuno ha fatto più di quanto doveva. Poi ci sono settimane che alcune linee vaccinano di più, altre che altre linee vaccinano di meno, a seconda delle modalità di consegna della struttura commissariale. Però abbiamo appena finito una riunione con il professor Ansaldi e il direttore generale e non ci sono cambiamenti nella programmazione. Gli insegnanti saranno vaccinati dal personale ASL3? Gli insegnanti cominciamo giovedì a aprirli, aprire le prenotazioni tramite telefonata, andranno certamente anche nel lab fiera, così come andranno in molti altri luoghi. vaccinati da chi? Delle due parti del lab, diciamo, sanità privata? Con un sistema assoluto misto e misto, non facciamo una differenza tra pubblico e privato, facciamo un problema di priorità di vaccinazione, ovviamente, quindi dove c'è più spazio verranno messi prima, se ci sarà più spazio, se il privato ha più spazio, andranno al privato, se il privato ha meno spazio, andranno al pubblico o viceversa, a seconda della programmazione del sistema computerizzato di Liguria Digitale, che ragiona ovviamente sopra i 60 e sotto i 60 per tipologia di vaccino e con il primo slot utile, quindi dipende dagli slot utili disponibili nelle varie linee di progetto, quindi sul progetto vaccino, se lei è un insegnante si prenota a più di 60 anni, può essere messo con AstraZeneca, con Pfizer o con Moderna, se ha meno di 60 anni, stando alle regole di oggi, che domani potrebbero essere diverse, viene messo solo su una linea freeze, perché questo stabilisce AIFA, e il primo slot disponibile nella ASL di sua competenza le viene assegnato, se poi lei si vuole in qualche modo acconciare diversamente, ovviamente cambia e maneggia come tutti fanno. bene signori, buona serata, buona settimana.